Musica Da Fudanno che passione, i ternani divisi tra festa in famiglia e viaggi. Ma comunque sono tutti d'accordo sul menù del veglione. Minaccia di uccidere il compagno impugnando due coltelli da cucina. È stata così denunciata una cinquantenne straniera. Fredrik Sorensen con due gol segnati che sono valsi altrettanti punti in campionata all'Atenana. Si gode le vacanze e non pensa al mercato di gennaio. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di MTG. Lo avete sentito dai titoli. Apertura dedicata inevitabilmente al Capodanno. Allora abbiamo chiesto ai ternani come e soprattutto dove lo trascorreranno. Allora andiamo a vedere nel primo servizio cosa ci hanno risposto. Se sarà un Capodanno in famiglia oppure si andrà fuori. Signora buongiorno, possiamo chiedere i programmi di Capodanno? Casa, fuori? Mi vado a casa da me. A casa. A casa e non mi fa festeggiare perché da noi in Ucraina, Gvera è proprio... Signore buongiorno, possiamo chiedere i programmi per Capodanno? Casa. Grazie. Niente di particolare. Programmi? Sì, ci siamo organizzati un po'. Nel senso, andiamo su un ristorante come tutti quanti e speriamo un bell'anno nuovo. La cena aziendale con l'ASD. Ma che cosa fate per Capodanno? Casa? Fuori? New York. Per Capodanno abbiamo la parrocchia emangolata congezionale, poi lì fanno la festa e andremo lì. Sono diversi capi d'anni che li faccio da solo. Due, tre, oltre non mi avventuro. Ma credo che sto bene, ho la mia dimensione personale, solitaria, ma faccio dalla terrazza che ho una bella visuale e vedo gli botti di quell'altro. Per Capodanno si va fuori, si va sempre in Italia, però si va a fare un giro al mare, a Riccione. Programmi per Capodanno, meglio soli che mal accompagnati. Questo è il mio programma anche come 2024. Casa a casa, perché lei capisce che l'età mia, io ho 82 anni, due ore che fado. Ecco, io normalmente dopo Capodanno andavo a sciare. Programmi per Capodanno? Casa con amici. Ragazzi, tutto pronto per Capodanno? No, parla italiano, sorry, I'm a turist. Programmi per Capodanno, tutto pronto? Sì, andiamo dei genitori, quindi sì. Casa, tranquilli, senza problemi, niente risparticolare, tra amici. A cena da un'amica, cioè non è tra amici. Sì, stiamo organizzandoci, sicuramente veniamo a vedere il concerto qui in piazza, sarà un bel evento. Penso che sarà una serata speciale per un anno nuovo che porta bene per tutti. In qualche modo faremo, ci organizzeremo. Scappa via lei, vedi? Non è sempre. A casa o fuori? A casa, a casa, a casa con gli amici, tranquillamente, senza esagerazioni, ecco. A letto. E dopo aver capito dove trascorreranno il Capodanno e i Ternani, andiamo a scoprire invece cosa non potrà mancare sulla tavola. Vi do subito un piccolo indizio, sicuramente non mancheranno le lenticchie, ma vediamo il servizio. Che cos'è che non può mancare sulla tavolata? Le lenticchie con le salsicce la sera, diciamo, è tradizione. Quindi sul classico? Sì. Già ne ho parlato con mia moglie adesso, diceva. Ho preso già le lenticchie, dice le salsicce, ma beh, posso dire. Per dolce, vandoro, panettone? Ma io so più il torrone. E' buono con i gamberetti. Le lenticchie, la salsicce, le lenticchie, il zambone, quello, un roba tradizionale. Beh, sicuramente le lenticchie. Veramente si vorrebbe anche l'uva, ma l'uva quest'anno sembra che sia l'oro, allora ne farebbe a meno. E' il vino? No, non ci vorrebbe con me. E no, e' il cotechino, tendenzialmente, diciamo, sono due ingredienti fondamentali. Beh, le solite cose, il cotechino con le lenticchie e tante altre cose, piccoli antipastini, cose del genere. Non facciamo grandi cose. Ancora dobbiamo decidere. Niente, non sappiamo ancora. Ah, non lo so, ci pensa mia moglie. Io proprio. Il cotechino va a mezzanotte. Le lenticchie. Quello sono sempre di buon augurio. Che cos'è che non può mancare in tavola quella sera? Ma secondo me è la condivisione con le persone. Perché è ora che ritorniamo, insomma, a creare qualcosa di importante tra di noi, perché vedo che piano piano nel tempo tutto si è tralasciato. Quindi stai vicino alle persone a cui tieni di più. Tutto qua. Sicuramente lenticchie, poi salsicce, il cotechino, il classico. Pandora o panettone? Panettone. Ma penso che andremo a mangiare un po' di sushi. Adesso va molto questo. Ancora non si sa. Vedremo. Qua cosa dell'ultimo minuto, penso. Sì, qualcosa con la famiglia, probabilmente. Non vive, è tornata da Stas. Ieri sera. Sì, vive all'estero, quindi stare con la famiglia quando si torna. Cosa speri di mangiare allora dall'estero in Italia? Dai tortellini, ovviamente, affettati che non si trovano da nessun'altra parte, onestamente. Pizza, pampepati, pandoro, le cose classiche, dai. In occasione del Capodanno, in programma domenica 31 dicembre, in piazza Ridolfi, la Comune di Terni ha predisposto una serie di misure di sicurezza. Non sono previste barriere o contenimenti del pubblico, ma due aree, una statica e una dinamica, sulle vie laterali. Tutte le aree parcheggio scoperte pubbliche della città, nell'anello circostante il centro storico, saranno gratuite nella fascia oraria dello spettacolo. Le vie di uscita, in caso di emergenza, saranno indicate con apposita segnaletica. Ai lati della piazza saranno posizionati i team sanitari, le persone diversamente abili. Per le persone diversamente abili ci sarà un'apposita area dedicata e riservata per assistere all'evento. Inoltre, per quanto riguarda famiglie con bambini, l'invito è di non accedere in piazza con i passeggini che potranno essere lasciati in uno spazio apposito all'ingresso della piazza. Inoltre, vige il divieto di portare contenitori per bevandi in vetro o in metallo. È fatto, infine, assoluto divieto in tutte le aree pubbliche di accendere o esplodere petardi o fuochi pirotecnici e similari di qualsiasi tipo e genere. E voltiamo decisamente pagina. L'Aggiunta regionale dell'Umbria ha approvato l'atto relativo al dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024-2025. Sono quattro gli istituti interessati. Vediamo quali nel servizio. L'Aggiunta regionale dell'Umbria, su proposta dell'assessore all'istruzione Paola Agabiti, ha approvato l'atto relativo al dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2024-2025. Sono quattro gli istituti interessati, come riportato in un comunicato stampa. E si tratta del nuovo istituto comprensivo Todi Massa Martana, dell'istituto omnicomprensivo Orzini di Amelia, dell'istituto comprensivo Leonardo da Vinci di San Giustino e del nuovo istituto comprensivo Assisi 1 e Percechi. Si tratta, ha spiegato l'Agabiti, di una riorganizzazione amministrativa che non prevede la chiusura di istituti e plessi, ma solo la ridefinizione del numero dei dirigenti scolastici. Questo per conformare le singole autonomie all'andamento anagrafico decrescente della popolazione studentesca, che interessa anche l'Umbria, con un calo della popolazione studentesca che passerà, come emerge dai dati Istat, dagli attuali 115.024 alunni ai 107.929 del 2026. Concludendo, Agabiti afferma che le sterili e scomposte polemiche messe in campo strumentalmente da chi non ha mai dimostrato capacità di programmazione e attenzione al territorio erano rivolte invece solo ad alimentare tensioni e timori nelle comunità per accaparrare il consenso. E l'ipotesi di un accorpamento degli istituti comprensivi di Acquasparta e Monte Castrilli, che sembrerebbe non essere nella delibera di giunta approvata, come si legge, ha suscitato comunque molte reazioni avverse. E' stato addirittura interessato della questione anche il Presidente della Repubblica. Il servizio. Sempre a proposito del dimensionamento scolastico approvato, era stata paventata l'ipotesi che nella delibera regionale ci fosse anche l'accorpamento degli istituti comprensivi di Acquasparta e Monte Castrilli. Una scelta che causerebbe gravi disservizi alla rete educativa del territorio, è scritto in un comunicato stampa diffuso dal Consiglio di Istituto di Acquasparta. Il Presidente del Consiglio di Istituto, Luca Arcangeli, in una conferenza stampa insieme a Lucia Marinelli, segretaria generale della Will Scuola Ruà dell'Umbria, hanno dichiarato che per questa ipotesi hanno passato un bruttissimo Natale, di aver scritto una lettera anche a Mattarella, e sono pronti ad altre azioni per scongiurarlo. Adesso i prossimi passi sono aspettare la delibera regionale, leggerne il testo, comprenderla, e eventualmente, lo annuncio, un ricorso al TAR e un eventuale ricorso al Consiglio di Stato. Noi, con anche la collaborazione di alcuni avvocati che ci stanno assistendo, insieme ai sindacati, all'RSU, insieme alla popolazione Acquaspartana e San Geminese, abbiamo deciso di non permettere un accorpamento che significherebbe accorpare due realtà completamente diverse, due realtà completamente di eccellenza, rovinandole. I due istituti hanno la propria indipendenza, la propria autonomia, hanno veramente la forza di costruire il futuro dei ragazzi. Un autotrasportatore italiano di 71 anni, originario e residente nella provincia di Udine, è stato trovato morto dalla Polizia di Stato nella cabina del suo camion nella mattinata di Natale, all'interno dell'area di servizio Fabbro Est, ad allertare le pattuglie della Polizia Stradale di Orvieto, sono stati i benzinai dell'area di servizio che avevano notato il camion con il motore acceso ormai dalla sera precedente. I poliziotti attraverso i finestrini chiusi hanno visto un uomo esanime sulla brandina, hanno rotto il vetro nella speranza di essere in tempo per poterlo salvare. Purtroppo però ben poco si è potuto fare perché il decesso era avvenuto ore prima per cause naturali. E serrati i servizi di ordine e sicurezza pubblica durante la vigilia di Natale, è finalizzata in particolare a garantire una movita sicura. Coordinati dalla Polizia di Stato, gli equipaggi di Carabinieri Finanza e Polizia Locale hanno pattugliato la città focalizzandosi sulle aree del centro storico e di aggregazione giovanile. Durante uno di questi controlli, gli operatori della finanza hanno fermato un giovane che ha subito mostrato un eccessivo nervosismo e durante la procedura di identificazione ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico con una lama lunga 10 centimetri che teneva nella tasca del giubbotto. Il giovane abruzzese, 18 anni compiuti da poco, è stato denunciato per porto abusivo di armi. In totale sono state identificate 40 persone, controllate 8 autovetture e sono state elevate 3 sanzioni alla codice della strada. Ira a piatti e bicchieri all'accompagno, non contenta e impugna due coltelli da cucina in minaccia di ucciderlo. È stato necessario l'intervento di una pattuglia della volante per riportare la calma in un appartamento della periferia. La donna, una cinquantenne straniere, è stata denunciata il servizio. Furiosa lite in famiglia nel giorno di Natale, ma la notizia si è avuta solo oggi, con richiesta di intervento della polizia da parte di vicini che dall'abitazione accanto sentivano provenire urla e rumori di oggetti infranti. Quando la pattuglia della volante, giunta sul posto, ha trovato in un appartamento in periferia situato al piano terra una donna in forte stato di agitazione che impugnava due coltelli da cucina, inveendo contro un uomo risultato poi essere il suo compagno. La donna, alla vista degli agenti, ha lasciato cadere i coltelli sul pavimento dove si trovavano stoviglie rotte e avanzi di cibo, segni della precedente collottazione. I due sono stati identificati dagli agenti. L'uomo è un tornano di 55 anni che ha riferito della ormai difficile convivenza con la compagna, soprattutto da quando, qualche mese prima, era tornata dal suo paese di origine e aveva iniziato a insultarlo e a colpirlo col lancio di oggetti. Cosa che si era ripetuta anche nel pomeriggio di Natale, questa volta però anche impugnando i due coltelli. La donna, una cinquantenne straniera, dopo essere stata riportata alla calma è stata accompagnata a casa di un familiare e può essere stata denunciata per maltrattamenti contro familiari e conviventi. I carabinieri di Fabbro hanno tratto in arresto un 41enne che dai domiciliari è passato ora in carico alla carcere di Terni. L'uomo, collocato pochi giorni fa a propri domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori ed estorsione e danni dei propri genitori, lo scorso mercoledì 27 dicembre era evaso venendo immediatamente rintracciato ed arrestato dai carabinieri. Nonostante le prescrizioni imposte, gli aveva contattato telefonicamente la madre minacciandola nuovamente. L'immediata segnalazione alla procura ha fatto scattare il provvedimento di arresto e per il 41enne si sono così aperte le porte del carcere di Terni. Voltiamo pagina. Grande festa di Natale alla carità sediocesana di Via Volusiano a Terni. Protagonisti dell'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Terni, tanti minori stranieri e non accolti nelle case famiglie presenti nel comprensorio. Insomma, un appuntamento all'insegna della solidarietà umana dedicato ai minori meno fortunati. Vediamo. Una bella festa organizzata dalla Caritas diocesana Terni Narnia Media in collaborazione con l'Associazione San Martino e l'assessorata al welfare del Comune di Terni. L'evento si è svolto nei giorni scorsi in Via Volusiano ed ha visto la partecipazione di tanti minori stranieri e non accolti nelle varie associazioni e case famiglie presenti nel territorio ternano. Insieme alla donazione di pacchi regalo c'è stata la consueta tombola e poi tanta, tanta musica a rallegrare un momento di solidarietà e convivialità. Siamo molto lieti e anche emozionati, devo dire. Con grande gioia quest'anno il nostro sindaco ha voluto regalare anche una festa per tutti i bambini delle case famiglie. Abbiamo decisa di organizzarla coinvolgendo in prima persona tutti gli operatori delle case famiglie che ci hanno anche consigliato sui regali da poter fare ai bambini e è stato grandissimo il supporto che la San Martino, Laboratori Della e Caritas ci hanno dato nell'organizzare. Ma c'è stata anche moltissima solidarietà. Infatti il doposcuola in via Fratini ha offerto gratuitamente l'intrattenimento per i bambini questo pomeriggio. Il Luna Park di Terni tutti i giostrai hanno regalato ad ogni bambino una busta contenente gli omaggi per tutte le giostre. Quindi davvero la GEMOS ha offerto il servizio del buffet, il Casa Grande Cesi, l'Istituto Alberghiero ha offerto dei biscottini. Insomma abbiamo riscontrato davvero una grandissima partecipazione della città e questo ci riempie di gioia perché il Natale è questo, deve essere condivisione e amore. Molte le realtà presenti del territorio all'evento e tra queste Laboratorio Idea, La Ghibellina, Arci Minori, Associazione Nuova Vita e il Filo di Arianna. Insomma tutti insieme per rendere queste feste momento di felicità anche per chi può permettersi davvero poco. Un successo, la prima messa in scena del presepe vivente di Cerreto di Spoleto, circa 100 figuranti che hanno dato vita ancora una volta a questo evento che verrà ripetuto il primo e il 6 gennaio. Noi siamo andati alla rappresentazione di Martedì, vediamo. È tornata la magia Cerreto di Spoleto dove Martedì è andato in scena il presepe vivente che ha coinvolto circa 100 figuranti. Per chi volesse immergersi in questo percorso emozionante, caratterizzato da botteghe, rivisitazioni di antichi mestieri e degustazioni, ci sarà ancora occasione per farlo il primo e il 6 gennaio a partire dalle 17. La partenza è da Piazza Pontano, da dove poi i figuranti proseguono fino a giungere all'ex chiesa di San Nicola e alla sede del Museo Il Ciarlatano, dove è allestita la rappresentazione della Natività. La manifestazione, nata nel 2004, è resa possibile dalla collaborazione tra istituzioni locali e regionali, associazioni del territorio, tra cui l'Associazione Turistica Pro Cerreto e i numerosi volontari che dedicano tempo e attenzione alla realizzazione di iniziative come questa che permettono di far conoscere e rivitalizzare i piccoli borghi della Valnerina e di rivivere antiche tradizioni. È una manifestazione molto importante per noi, perché si estende dalla nostra piazza principale fino ad arrivare all'ex chiesa di San Nicola, un ambiente particolarissimo dove poi abbiamo rappresentato la Natività vera e propria. Da qui fino ad arrivare in fondo, viene rappresentato tutto quello che il presepe in qualche modo ci offre, dai mestieri che venivano realizzati fino a quello che grossomodo si poteva degustare. i prodotti tipici, anche dell'epoca, insomma. È una rappresentazione sentita e veramente devo ringraziare tutti, tutti quelli che ci hanno messo le condizioni di poterlo realizzare. Lungo il percorso che si snoda tra scorci e panorami mozzafiato, incorniciato dal paesaggio della Valnerina, sarà possibile ammirare il fabbro mentre forgia il ferro arroventato, il falegname che intaglia il legno, il pescatore, il canestraio che intreccia le ceste di vimini, le donne che lavorano i gomitoli di cotone per ricavarne pizzi e merletti, il calzolaio e tanti altri mestieri e artigiani. Sarà anche possibile degustare il formaggio preparato dal pastore, la focaccia del forno a legna, le salsicce, le frittelle, la volente, il pane del fornaio, il vino caldo preparato nella locanda, insieme a tanti altri prodotti tipici, il tutto in un ambiente unico, accompagnati nel percorso da racconti che evidenzano la storia della natività. E dopo tre anni di stop torna ad Arrone il presepe vivente e il primo senso del suo ideatore Piero Laliscia, a cui è dedicata questa edizione, la 2023. L'antico castello medievale, cuore pulsante della comunità arronese, ospiterà comparse e figuranti che riproporranno la vita all'attempo di Gesù di Nazareth. A realizzare il tutto, una collaborazione tra comune, proloco e assorazioni, tra cui il gruppo speleologico di Terni e Pistrelli, che realizzeranno la discesa degli angeli dalla Torre Campanaria alla Capanna della Natività. L'ingresso al presepe avverrà quest'anno da Piazza Garibaldi, con visite guidate in programma il primo e sei gennaio, a partire dalle 17.15. L'ingresso ha il costo di 5 euro per gli adulti, gratuito per i bambini. Aspettando la Befana, l'iniziativa organizzata dall'Associazione Insieme per Terni, regalerà a una ventina di bambini un pomeriggio con la Befana e soprattutto il ricavato sarà devoluto per aiutare una bimba con una malattia genetica. I dettagli nel servizio. Non solo Babbo Natale, a Terni passerà anche la Befana, un po' in anticipo, il pomeriggio del 5 gennaio, presso il centro commerciale Ipercop di Via Gramsci. Il spettacolo a Befana è un'iniziativa graduita che per i bambini vogliono partecipare, possono venire qui in mezzo senza nessun problema. Il 5 gennaio alle 16.30 possono partecipare a questi giochi organizzati dall'Associazione. Abbiamo preso questa iniziativa a noi della Sereo del Terni proprio per aiutare dei bambini e riportare questa cosa della Befana più viva. Un'iniziativa importante per dare un po' di gioia a una ventina di bambini che riceveranno direttamente dalle mani della Befana i giochi donati a titolo gratuito da una catena di giocattoli Ternana. Ma la cosa più importante è che il ricavato raccolto il 5 gennaio aiuterà una bambina affetta da una malattia genetica per regalare un po' di speranza a chi ne ha più bisogno. Il Tg termina qui grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la programmazione di MTV canale 84 delle digitali terrestre. a chi ne ha più bisogno.